Vi siete mai chiesti perché a volte vediamo la luna piena e a volte ne vediamo solo uno spicchio? Scopriamolo insieme con la scatola delle fasi lunari. Si tratta di una scatola di scarpe dipinta all'interno di un colore scuro e che presenta sui suoi lati otto finestrelle richiudibili. Dentro la scatola al centro troviamo una pallina, la nostra luna. A seconda della finestrella da cui osserverete la luna noterete che si presentano diverse situazioni. Vediamo prima come realizzare la nostra scatola. Per costruire la scatola delle fasi lunari ci servirà una scatola da scarpe, un pennello, della tempera di colore nero o blu scuro, una pallina di polistirolo, dello scotch di adesivo, un taglierino e una forza. Dipingi con la tempera l'interno della scatola e del coperchio e poi lascia asciugare. Dopodiché con l'aiuto di un adulto utilizza il taglierino per fare delle finestrelle richiudibili sui lati della scatola all'altezza della luna che andrà posizionata in seguito al suo interno. In particolare devi fare tre finestrelle sui lati lunghi della scatola e una centrale sui lati corti. Prendi poi un pezzetto di scotch biadesivo e attacca la pallina sul fondo della scatola al centro. Questa sarà la tua luna. Quando è finito chiudi il coperchio e poi posiziona la torcia accesa davanti all'apertura di uno dei due lati corti in modo da illuminare la luna dentro la scatola. Mantenendo fissa la torcia e aprendo alternativamente tutte le finestrelle potrai osservare la luna nelle sue diverse fasi. Luna piena Ghibbosa calante Ultimo quarto Luna calante Luna nuova Luna crescente Primo quarto Gibosa crescente La Luna è l'unico satellite della Terra e come lei mette in atto due tipi di moto una rotazione che è un moto su se stessa di circa 29 giorni e una rivoluzione attorno alla Terra che ha la stessa durata Per questo motivo dal nostro pianeta è osservabile sempre la stessa faccia della Luna Questo non significa però che il satellite rimanga sempre uguale ai nostri occhi Nell'arco dei 29 giorni, infatti, noi vediamo diversi tipi di Luna Considerando una luce del Sole fissa, la Luna, muovendosi sulla sua orbita ellittica attorno alla Terra viene illuminata in modo diverso in base alla sua posizione e questo la fa apparire ai nostri occhi in circa otto modi diversi sono le fasi lunari Adesso, con la vostra fantasia e con qualsiasi strumento o oggetto preferite provate voi a realizzare le varie fasi lunari Grazie a tutti Grazie a tutti.